Grazie al simodone sei un pazzo, un fuori di testa, oh mi ma l'avevi notata la M dei modificati sul logo del condizionatore dietro di te? Guarda bene, no non c'è, era un prank Ah volete parlare, volete fare un Oh Mr. Bitcoin, Mr. BTC No, no Mr. BTC Grazie Bitcoin